Ciao a tutti ragazzi, oggi vi voglio parlare dei colori e voglio iniziare questo argomento molto lungo dicendo subito una cosa importante che dovete sapere, la prima cosa che dovete sapere quando comprate i colori. I colori per acquarello in commercio ne esistono di tanti tanti tipi ma si distinguono essenzialmente in due categorie, gli extrafini e i colori fini diciamo così. Gli extrafini sono quelli generalmente comprati dagli artisti cioè dagli artisti un po' più avanti nello studio dell'acquarello, gli artisti professionisti, cioè tutte quelle persone che desiderano dipingere con acquarelli di migliore qualità perché gli acquarelli extrafini contengono pigmento puro selezionato di appunto migliore qualità e meno elegante. Però gli acquarelli extrafini costano un po' di più, ma costano un po' di più ragazzi perché sono fatti meglio. Poi ci sono acquarelli anche ai quali vengono aggiunti degli additivi come ad esempio il miele, per esempio parlo, mi riferisco agli acquarelli della Senelier che sono forse i più cari in commercio oppure anche quelli della White Nights che sto usando io contengono anche un po' di miele e questo rende gli acquarelli più morbidi, più fluidi quando li passiamo sulla carta. Sono ideali per dipingere i fiori, soprattutto per dipingere i fiori quando facciamo gli steli, i gambi, sono veramente acquarelli molto belli. Ok, poi esiste invece la categoria degli acquarelli fini, diciamo così, che sono degli acquarelli di gamma media, ecco per intenderci. Sono acquarelli buoni ma generalmente non top di gamma, cioè sono quegli acquarelli che le aziende, i colorifici costruiscono o comunque realizzano più che altro come linea per gli studenti, cioè per i principianti. Mi riferisco ad esempio agli acquarelli Cotman della Windsor & Newton che sono forse i più conosciuti tra gli acquarelli fini insomma come linea studio, ecco. E qual è la differenza diciamo tra gli extrafini e i fini? Cioè tra gli extrafini che hanno, la differenza in cosa consiste? Che gli extrafini hanno una quantità di pigmento puro superiore, maggiore, sono trattati, costruiti meglio. L'ho detto prima, forse alcuni hanno anche dei leganti migliori, ad esempio alcuni hanno degli additivi come il miele, il pigmento è puro, brillante, si vede immediatamente quando si dipinge, che essi ha un risultato del colore decisamente migliore. Mentre gli acquarelli fini hanno una quantità minore di pigmenti puri, quindi la linea studenti, per esempio la Cotman, ha una quantità minore di pigmenti puri, quindi i loro, questi colori sono meno intensi, meno trasparenti e più granolosi e soprattutto anche non sono molto stabili alla luce. Quindi in sostanza quando noi dobbiamo scegliere poi quali acquarelli comprare, dobbiamo tenere in considerazione alcuni parametri, ad esempio la stabilità alla luce, la brillantezza, la luminosità, diciamo questi sono dei parametri importanti. Ora ovviamente i principianti queste cose magari non li notano all'inizio perché chi inizia a dipingere adesso non ha ancora molta esperienza, però vi consiglio di visitare vari siti internet per esempio della My Mary, per esempio io ho visitato il sito della My Mary e ha due linee di acquarelli, la linea Venezia Extra Fine che io possiedo, con il quale io ho dipinto e un'altra linea ancora superiore che è la linea My Mary Blue che ha dei pigmenti ancora più puri e poi nel sito c'è anche proprio la specifica, perché l'azienda specifica anche il grado di luminosità, di brillantezza, resistenza alla luce, insomma tutta una serie di parametri che sono importanti poi per quegli artisti che desiderano dei acquarelli di migliore qualità, più stabili nel tempo come colori, cioè che danno un risultato stabile nel tempo, cioè che magari non scoloriscono, che voi fate un dipinto oggi e vi resta intatto per sempre negli anni, ecco, insomma, questo è in sostanza il discorso. Ora, è chiaro che cosa succede, la differenza da capire, è chiaro che magari gli acquarelli extrafini costano di più, gli acquarelli fini costano di meno e i principianti sono portati per acquistare gli acquarelli che costano di meno, perché giustamente dicono, beh, io inizio oggi non so come sarò, se divento bravo, eccetera, però sapete cosa succede? Siccome gli acquarelli linea studio, quindi sto parlando dei fini, quindi sto parlando già di acquarelli come i Cotman, non parlo poi degli acquarelli dei supermercati, perché quelli sono ancora, diciamo, sotto categorie, quindi sono costruiti ancora peggio, ecco, in sostanza, vi posso dire, è un'informazione che desidero condividere con voi, è quella che è vero che da un lato voi spendete di meno, ed è anche giusto acquistando gli acquarelli linea studio, però ricordatevi che contengono questi tipi di colori, contengono meno pigmento, quindi in sostanza voi per ottenere lo stesso risultato, per esempio un viola altrettanto intenso, come lo potresti ottenere con gli acquarelli della White Nights, dovete mettere molto più colore, quindi alla fine quello che voi risparmiate in soldi nel lungo periodo, cioè anche se comprate gli acquarelli che sono un po' più economici, nel lungo periodo vi accorgerete poi, usandoli, che per ottenere un risultato brillante dovete utilizzare più pigmento rispetto invece agli acquarelli che, per esempio quelli della White Nights, che sono costati di più all'inizio, ma hanno una resa del colore decisamente superiore già da subito, cioè basta una goccia e per esempio i blu, molti avranno notato che il blu della White Nights colorano proprio, hanno un potere colorante straordinario che bisogna proprio anzi stare attenti a saperlo, a sapere usare questi blu perché veramente sennò danno una resa pazzesca, quindi anzi dobbiamo proprio saperli dosare, saperli diluire questi blu. Io sto facendo l'esempio dei blu perché diciamo è quello che abbiamo usato ultimamente per fare la rosa gialla eccetera, però vabbè anche altri colori, io ho notato anche con altri colori sempre della palette White Nights, sono veramente molto, contengono molto pigmento questi colori, quindi poi dobbiamo stare attenti a saperli diluire con l'acqua proprio perché sennò i nostri dipinti risulterebbero anche un po' troppo accesi, che comunque sapete nell'acquerello, soprattutto poi quando si dipingono i fiori, gli acquerelli brillanti, accesi, luminosi, sono veramente molto belli, danno davvero dei bellissimi risultati, quindi insomma questo io volevo informarvi di questo, cioè volevo condividere con voi questo tipo di informazione, che gli acquerelli extra fini sono diciamo i migliori, gli acquerelli linea studio contengono meno pigmento, sono magari fatti anche benino, sì sono buoni, possono andare, però contengono meno pigmento, e quindi dovete poi usarne una quantità maggiore per ottenere quei tipi di colori che vi servono. Un'ultima cosa prima di chiudere il video, vedete questo cartoncino? Vedete questo? Benissimo, vedete quest'altro? Ok. Sapete cosa sono questi cartoncini? sono esattamente le confezioni delle merendine del supermercato. In modo particolare questa è la confezione che contiene, in cartone, che contiene le crostatine al cioccolato di cui io sono ghiotta. E questo invece, che è più grande, contiene i cornetti alla marmellata. Sì, un giorno li ho comprati. Va bene. Perché vi sto facendo vedere questi cartoni? Perché quando voi dipingete, sarebbe cosa buona e giusta che prima di stendere il colore sulla carta, facciate poi delle prove di colore su questi cartoni. Io ve lo consiglio. Probabilmente quando avete visto i miei video dove io dipingo, magari qualcuno avrà notato che ogni tanto si vedono questi cartoncini che compaiono durante la ripresa. Ebbene, io questi cartoncini li conservo tutti, cioè sono questi qui in bianco, sono i cartoncini appunto delle merendine, delle confezioni merendine. Io li apro e sono molto utili perché qui su questo cartone bianco, diciamo, posso fare le prove di colore prima di stendere il colore sul mio dipinto. Questi per esempio sono quelli che ho utilizzato appunto per fare i miei dipinti. E ritengo che sia, diciamo, questo un consiglio utile da darvi perché, ragazzi, prima di stendere il colore sul vostro dipinto, io immagino che già lo facciate, cioè, o comunque, in generale, mi sento di darvi questo consiglio. Fate una prova dei colori che voi miscelate sulla vostra tavolozza, passate questi colori su questi cartoni. Oppure, se non volete usare questi cartoni, io uso questi cartoni perché è un peccato sprecare i fogli dell'album, però se non volete usare questi cartoncini, potete usare chiaramente i fogli dell'album. Purtroppo dovete sacrificare qualche foglio di album e fate la prova. Quindi stendete su questi cartoncini prima il colore. Vedete quando io dipingo, quante volte, cioè, praticamente sempre, cioè tutte le volte che io preparo il colore, prima di stenderlo sul mio dipinto, lo provo sempre sul cartoncino perché solo così posso capire la densità del colore che io ho preparato, se è denso abbastanza per come lo voglio io, se il colore è esattamente quello che voglio io e se mi accorgo che va bene, allora a quel punto lo passo poi sul dipinto. Quindi vi do questo consiglio perché mi sembra giusto, insomma, che anche voi impariate a fare, perché all'inizio è normale fare queste prove di colore, ma non solo all'inizio, sempre in realtà. Cioè prima di passare il colore sul dipinto dobbiamo provarlo da qualche parte per capire appunto se è diluito abbastanza, se è anacquato e soprattutto se abbiamo fatto la giusta miscela di colore, se abbiamo ottenuto il colore giusto che vogliamo passare. Quindi potete utilizzare questi cartoncini e la prossima volta, se mangiate delle merendine a casa, non li buttate perché potrebbero venirvi utili. E vedete quante prove si fanno? Tantissime. Quando si dipinge, ogni volta che io passo il pennello, prima di passarlo sul mio dipinto, lo passo sempre prima sul cartoncino per vedere se il colore che sto passando è quello giusto. Perfetto, per oggi concludo qui questo video, vi saluto e alla prossima ragazzi! Ciao ciao!